dopo aver speso 100 mila e passa di dollari per prendere tutti i pezzi dell'astronave siamo arrivati al pezzo numero 50 o un po paura aspettate che chiede un secondo cosa ne pensa la mucca secondo lei l'astronave bella signora lei cosa ne pensa di questa storia reputa che sia interessante non mi sposti nobbia posso salire sulla mucca non posso signori lo prendiamo e vai 50 su 50 parti dell'astronave raccolta e quindi e adesso e dove la prendo l'astronave non so dove prendo l'astronave dovrebbe esserci il tizio è questo sicuro è quello sicuro è quello sicuro lo voglio vedere raga chiamo un taxi ovviamente chiamo un taxi vado in strada chiamo il taxi voglio vedere l'astronave raga 50 pezzi presi io non li avevo mai presi ricordo che su twitch giochiamo tutti i pomeriggi a gta dalle 15 alle 18 chiamiamo il taxi vai vai mi serve un taxi con franklin ah devo andare con franklin allora un secondo devo andare con franklin non va bene trevor cioè trevor di ha presi 50 e franklin si prende l'astronave ma che schifo andiamo ho bisogno di andare dal tizio franklin dov'è franklin no no scendi qua e chiama un taxi chiama un taxi perché è sempre un casino vai me lo mandano un taxi qua ok ok mi mandano il taxi ragazzi bella andrea grazie mille grazie mille lo voglio ragazzi non lo vedo non vedo il taxi non vedo il taxi quella macchina qua guarda questo cos'è tarella ok taxi easy vai portami a destinazione signori voglio vedere che cavolo succede era la o di omega giusto se non ricordo male deve essere lui deve essere lui sono morto un fottio di volte per prendere questo pezzo tutti i pezzi dell'astronave se mi crascia il gioco che sta caricando mi arrabbio vediamo cosa succede stiamo in caricamento ragazzi non sono un po preoccupato per questo caricamento così lui c'è il tizio c'è il tizio l'ultimo pezzo vieni ho costruito questa nave secondo le istruzioni e la lettera wow staff ma che cazzo è e quindi ma quanti pezzi ci sono ma quanti pezzi ci sono what 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 volano signori abbiamo la macchina e adesso è certo che la voglio provare Ma la perdo? No vabbè ragazzi Ma la perdo? LOL La vado a mettere in garage Beh signori La macchina Anzi l'astronave La macchina astronave Che è un pochettino strana Se devo essere sincero Ne sarà valsa la pena di questi 50 pezzi presi Scrivetemelo qua sotto DAIE